Qui vi presentiamo le 5 migliori liquidi dei freni auto. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Bocce liquido freni DOT 4 0.5L. Consiste in additivi efficaci per la difesa del deterioramento e anche la lubrificazione, garantendo una lunga durata e anche una sicurezza operativa ottimale grazie ai suoi elevati punti di ebollizione. Soddisfa le esigenze tecnologiche di vari veicoli e supera le attuali esigenze degli standard mondiali. Grazie al suo basso spessore, è perfetto per le auto con sistemi di arresto digitali. La confezione è di... Passando al numero 4. Brembo L04010, fluido freni DOT 4. Ha un punto di ebollizione particolarmente elevato 260C e una viscosità ridotta soddisfa quindi bene le esigenze degli standard di governo. È adatto anche per auto con addominali ed è suggerito in una confezione ergonomica da 1 litro, che è estremamente utile per prendersi cura di promuovere le procedure di CA. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Fluido liquido olio freno Motul Racebrake Fluid RBF 660 Factori di NEDOT 40,5L. È ottimale per tutti i tipi di comandi idraulici, freni e fizioni, per i quali si consiglia di utilizzare un liquido artificiale privo di silicone. È specificamente fatto per resistere alle alte temperature create dai freni in ceramica o carbonio delle automobili da corsa. Può essere utilizzato anche per i tradizionali freni a disco in acciaio e per i comandi idraulici della frizione. Consente di ridurre la superficie di ingresso dell'aria necessaria per il raffreddamento dei freni. L'elevato punto di ebollizione 325 ci consente di mantenere l'efficienza frenante anche nel caso in cui i freni siano incredibilmente stressati. Almost at the top of our list at number 2. AT-03.9901-6403.2 liquido freni. Questo liquido freno Couse 6.4 è identificato dal suo ridotto livello di viscosità. Si approde per tutte le auto e i camion dotati di addominali, ESP, ARS, XDS. È fornito in una la lava d'acciaio da 5 litri. È un prodotto prodotto in Germania, apprezzato da coloro che lo hanno effettivamente tentato per la sua massima qualità. E infine il numero 1 della nostra lista. Euro Lube, liquido per freni .4. Prodotto in Germania, questo fluido freno DOT 4 è disponibile in un funzionale pacchetto da 5 litri. La gestione consente di eseguire operazioni di riempimento in modo confortevole. Si basa sulle terpoli glicole e ha una prevenzione corrosiva affidabile e anche antiossidanti. È identificato dalla sua elevata stabilità termica e dalla difesa dalla ruggine. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più, iscriviti al nostro canale.